Sono orgoglioso di essere sanmaritano, sono cresciuto in questa città, sono 43 anni che la vivo, conosco benissimo le frazioni Rosciano, San Marco, Loreto, Mandre e sono innamorato di ogni sua parte. Rosciano mi ha sempre regalato quella essenziale calma che fin da piccolo mi recavo lì per guardare il mio paese dall'alto, Mandre e Loreto con le sue tradizioni dal punto di vista sia culturale che sociale sono diventate per me parte della mia famiglia e le ho sempre girate con piacere. Anche vivendo in una parte di Santa Maria Vico che da piccolo, il centro, località migliori, ho sempre guardato alle frazioni e soprattutto con molta attenzione ho sempre aiutato quella che poteva essere le difficoltà riguardo a San Marco Trotti, ma fondamentalmente vivo da 43 anni in questa città cercando di guardare tutti i sospetti. Sono cresciuto sul cordone centrale, sulla via Appia Antica, conosco ogni famiglia e ho partecipato conoscendo i problemi di ognuno di loro. Un altro punto che mi interessa sottolineare è il recupero della masseria La Duchessa. Tanto se ne è parlato, tanto se ne è discusso, ma ad oggi noi vediamo un bene che potrebbe diventare, e sto prendendo impegni dal punto di vista politico, con il rettore universitario per fare sì che lì venga una facoltà universitaria. Io propongo per i nostri concittadini una formazione scolastica completa che vada da 0 a 25 anni, cioè propongo che vengono fuori eccellenze dal punto di vista giovanile che possa portare a una formazione corretta e completa.